it's a friday once again and it's a very friday I shaved my beard with this fantastic electric blue black and green razor only 8 euros and a chip very great anche se in realtà non funziona più it si non funziona più quindi in realtà è una finta faccio vedere solo così oggi penso che il rasoio sarà durato sarà durato circa un anno 10 mesi penso non so perché non va più il motore va ma non va diciamo la lama quando si inserisce dentro però ho utilizzato un altro diciamo dei capelli più potente anche anche quello abbiamo da più tempo però però perché ci sono affezionato a questo rasoio insomma ci ha accompagnato tutto il weather report quando mi sono messa a parlare questa cosa lo faccio vedere lo stesso e poi ripeto a chi non l'avessi mai sentito la miri report il weather sul venerdì la barba in realtà io taglio ogni due settimane questa parte qui e ogni settimana questa perché come modello di riferimento ripeto l'inizio volta a rapport il signore degli anelli ovviamente non somiglio né a lui al personaggio soprattutto nell'attore all'attore Kingo Mortensen tra l'altro ritornato da poco a un film di un suo regista David Cronenberg che per David Cronenberg l'attore feticcio il film è non lo so ma è uscito a Cannes è stato presente da Cannes poco tempo però sì diciamo volevo fare questa e questo perché ovviamente sono grande fan anche del signore degli anelli for all the other things and for the other points of the Friday in this new ship of the weather other details read the description and perhaps later inserisco un video a parte fatto ieri su una cosa ho pensato ieri comunque di pochi minuti sì l'ho fatta ieri diciamo l'ho fatto ieri questo video e appunto poi l'ho inserisco credo dopo questo video nella weather normale